Ritorniamo ancora insieme. Questa mattina vogliamo parlare di un momento di devozione importante che coinvolge la città natale di Padre Pio Pietrelcina e abbiamo con noi ospite nei nostri studi Fra Daniele Moffa. Buongiorno, ben trovato Fra Daniele, grazie per essere con noi. Pace bene, pace bene a tutti voi. Allora, l'evento di cui vogliamo parlare, che comincerà domani, 24 giugno, è la presenza del prezioso reliquiario della Madonna delle Lacrime, direttamente dal santuario di Siracusa, nella terra natale appunto di Padre Pio. Stiamo vedendo già alcune immagini che insomma riassumono quello che è un po' il senso di questo momento così importante. Allora ti chiederei Fra Daniele di farci capire un po' il senso, anche ai nostri telespettatori, di quello che accadrà a partire da domani a Pietrelcina. Sì, domani, come hai già accenato tu, vivremo l'inizio di questi giorni intensi di preghiera e di intercessione, così come li abbiamo voluti chiamare e definire per la terra di Padre Pio e non solo per la comunità parrocchiale che li vive, ma anche per tutti i pellegrini che nel weekend affollano il nostro santuario. Accoglieremo il prezioso reliquiario che contiene un po' i segni di quella lacrimazione che la Madonna ha voluto dimostrare, ha voluto donare ai suoi figli spirituali, a tutti coloro che si affidavano a lei, a Siracusa negli anni 50. Sappiamo bene come è avvenuta quella lacrimazione, sappiamo bene il luogo dove è avvenuto. Ecco, mi piace sottolineare questo che la Madonna ha pianto in una casa, in una casa di gente semplice, in una casa, diciamo, di una famiglia che stava attraversando anche un momento delicato della propria esperienza matrimoniale, perché questi due giovani coniugi che si erano sposati da pochi mesi, stiamo negli anni 50, nella Sicilia degli anni 50, si erano sposati da pochi mesi. La donna, lei, Antonina, stava vivendo una gravidanza abbastanza difficile e aveva delle perdite della vista. Ad un certo punto la vista scompare del tutto, poi quando la mattina del 29 agosto del 53 la vista ricomparirà definitivamente, ecco che vede questo quadretto del Cuore Immacolato di Maria che lacrima e questo reliquiario che noi ospiteremo raccoglie proprio in un tubetto di cristallo, raccoglie una delle ultime lacrimazioni della Madonna e poi sotto c'è tutto, ecco, l'ovatta, un po' la stoffa con il quale la famiglia e i giovani coniugi hanno asciugato le lacrime sul volto del Cuore Immacolato di Maria. Fra Daniele saranno tre giorni di preghiera, di riflessione, a partire ovviamente da questo evento prodigioso che tu ci hai descritto. Chiedo alla regia di far vedere un po' il programma della tre giorni della presenza di questo reliquiario a Pietrelcina, eccolo qui, grazie. Lacrime di intercessione, lacrime d'amore, lacrime di fedeltà sono le tre tematiche che accompagneranno un po' la tre giorni nella terra natale di Padre Pio, celebrazione eucaristica come vediamo dal programma, momenti di riflessione, il tutto nel segno di Maria. Alle tue lacrime Gesù nulla rifiuta. Questo è anche un po' il leitmotiv, potremmo definirlo così, che accompagna questa tre giorni. Vorrei far vedere anche ai nostri amici un dipinto, l'abbiamo visto prima di passaggio, ma adesso eccolo qui, lo vogliamo approfondire con Fra Daniele. Questo ritratto, questo dipinto che un po' riassume la devozione di Padre Pio nei confronti di Maria e nello specifico anche della Madonna delle Lacrime, del santuario di Siracusa che a Padre Pio era caro. Sì, questo è un dipinto fatto proprio per l'occasione, è stato realizzato da un artista siciliano che si chiama Carmelo, anche un mio caro amico. Abbiamo pensato insieme di ritrarre questo legame di Padre Pio verso la Madonna delle Lacrime, verso il cuore immacolato e ci sono due elementi importanti, al di là delle due immagini dominanti, la Madonna e il Padre Pio. Ci sono due segni, prima di tutto quelle lacrime che fanno un po' da cornice, da contorno al dipinto, che indicano non solo le lacrime della Madonna, ma indicano tutte le lacrime dell'umanità, potremmo dire, le lacrime che vengono affidate ogni giorno, ogni giorno al Signore, alla Madonna, ma soprattutto anche nei nostri santuari. A Pietrelcina, come a San Giovanni Rotondo, la gente viene per affidare le proprie lacrime e quindi lì sono impresse, potremmo dire, le lacrime dei nostri pellegrini. E poi c'è un particolare molto bello che forse è poco conosciuto, nelle mani di Padre Pio c'è un fazzoletto e questo fazzoletto ha un duplice significato, certamente la figura di Padre Pio come intercessore, come colui che ha asciugato e continua ad asciugare tante lacrime, però mi ha comunicato il rettore del santuario di Siracusa che quando Padre Pio ha saputo della notizia della lacrimazione della Madonna, negli anni Sessanta lui stesso inviò alla famiglia che ospitava il quadretto della lacrimazione, inviò un suo fazzoletto con un suo autografo, con una sua lettera insomma alla famiglia Iannuso, ecco donò un fazzoletto, non sappiamo per quale motivo, il rettore ancora non mi ha detto ecco in maniera specifica perché Padre Pio donò il fazzoletto, chissà forse lo voleva indietro ecco con le lacrime della Madonna, forse come segno della sua presenza e della sua vicinanza, fatto sta che Padre Pio ecco aveva donato questo fazzoletto alla famiglia Iannuso che era la famiglia protagonista della lacrimazione e poi negli anni a seguire ci sono tante testimonianze del legame di Padre Pio verso la Madonna delle lacrime, ci sono tante santini, tante immagini che noi conosciamo, abbiamo visti tante volte dove Padre Pio lascia ecco la sua dedica ai suoi figli spirituali sull'immagine della Madonna delle lacrime, ecco la Madonna ti consoli, la Madonna ti dia pace, la Madonna asciughi le tue lacrime e questo Padre Pio era innamorato della Madonna, non possiamo pensare a Padre Pio senza la presenza di Maria nella sua vita e soprattutto ecco la presenza di questa immagine che ha lacrimato e sappiamo bene come anche nella vita di Padre Pio le lacrime siano state ecco diciamo un continuo, siano stato anche l'immagine della sua preghiera fin da giovane, da novizio a 15 anni ebbe il dono della lacrimazione come motivo di compassione nei confronti della passione di Cristo, ecco noi a Pietrecina in questi giorni vorremmo sottolineare da domani vorremmo sottolineare tutto questo ecco come Padre Pio e la Madonna insieme possono ancora oggi dare un messaggio di consolazione e di speranza a tutti coloro che piangono ecco per tanti motivi e poi le lacrime sono anche lacrime di gioia, non si piange solo per la sofferenza, si piange anche tante volte di gioia e di commozione positiva ecco. Stiamo vedendo il programma, ecco lo abbiamo visto, lo rivediamo, della accoglienza di domani sabato 24 giugno alle 16.30 presso il convento della Sacra Famiglia di Pietrelcina e poi a seguire la processione verso la parrocchia a cui seguirà il rosario e la messa. Fra Daniele prima sottolineava questo legame importante che c'è stato tra Padre Pio e il santuario della Madonna delle Lacrime, voglio anche ricordare, faccio anche come esercizio di memoria che anche qui a San Giovanni Rotondo nel 2014, quindi quasi dieci anni fa c'è stata la presenza del reliquiario della Madonna delle Lacrime, un evento importante anche questo. Prima di salutarci Fra Daniele, come si sta preparando allora la comunità di Pietrelcina a questo evento particolare, visto che siamo anche a un mese, sì, 25 maggio, 25 giugno più o meno dal compleanno di Padre Pio, dunque una serie di eventi che comunque radunano tanta gente, Pietrelcina che comunque rimane nel cuore del devoto di Padre Pio. Certo, allora ecco nel cuore di Pietrelcina c'è la Madonna, ecco sappiamo bene come la Madonna della Libera sia la patrona di Pietrelcina e il nostro, ecco il nostro, la nostra parrocchia, i nostri parrocchiani sono legatissimi alla Madonna, quindi quando si parla di Maria, quando si parla della Vergine Santa, come Padre Pio ha saputo trasmettere alla nostra gente, ecco la gente si emoziona, la gente è contente. Poi quando ho proposto, quando ho iniziato ad annunciare questo evento, tanti di loro sono venuti a dirmi di questo loro desiderio di poter ecco venerare le lacrime della Madonna, quindi già c'era una conoscenza, una conoscenza profonda di questo miracolo, di questo prodigio mariano potremmo dire e quindi mi ha stupito come la gente ecco davvero era entusiasta di questo arrivo e ci saranno certamente i bambini della prima comunione, ci sarà ecco come un po' nelle nostre forme popolari, ecco accoglieremo la Madonna, ma anche tanti pellegrini che già mi hanno chiamato e mi hanno assicurato la loro presenza. Un momento molto importante, ecco che condivido anche con coloro che ci seguono da casa, sarà la notte tra il sabato e la domenica perché vivremo una notte intera di preghiera e di adorazione proprio a partire dalle 23 fino al mattino dopo, lasciando poi lo spazio alle sante messe, tutta la notte ci sarà una notte di intercessione, di consolazione per pregare per tante intenzioni che ci vengono affidate, quindi assicuriamo anche la nostra preghiera lì sui luoghi di padre Pio davanti alle lacrime della Madonna per tutti coloro che ci seguono e che si affidano alla nostra preghiera in queste lacrime di intercessione davanti a Gesù Eucaristia e davanti al reliquiario prezioso che contiene il segno di queste lacrime di tenerezza della Madonna. Prima di lasciarci, fra Daniele, prima dicevamo a telecamere spente che questa idea nasce nel corso del mese di maggio, giusto, della peregrinazio della Madonna o forse anche un po' prima. Sì, io ad aprile sono stato a visitare il santuario di Siracusa in modo privato così perché ero di passaggio lì per motivo pastorale e così venerando il quadro della Madonna, venerando l'icona, ecco mi è venuta spontanea di dire questa idea, no? Chissà se anche le lacrime possono venire a Pietrelcina. Subito ho contattato il rettore del santuario e si è dimostrato disponibilissimo ecco a questo evento, infatti sarà proprio il rettore del santuario di Siracusa insieme ad un seminarista a portare il prezioso reliquiario nella nostra comunità parrocchiale. Lì al santuario mi regalarono una copia ecco del cuore immacolato e durante tutto il mese di maggio il cuore immacolato di Maria ha visitato le famiglie di Pietrelcina, le famiglie, vari luoghi della comunità parrocchiale con la preghiera del Santo Rosario. Quindi ci stiamo preparando già da un bel po' di tempo. Perfetto, allora ricordiamo e facciamo vedere per l'ultima volta il programma di questa tre giorni 24, 25 e 26 giugno. Il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa sarà a Pietrelcina. Noi abbiamo voluto un po' riassumere il senso di questo peregrinazio con Fr. Daniele Moffa che è l'animatore, potremmo dire così, assieme ai frati presenti a Pietrelcina di questo importante appuntamento che vi invitiamo a seguire qualora possiate, ovviamente anche recandovi direttamente nella terra natale di Padre Pio. Fr. Daniele, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie di cuore. Grazie a te, grazie a te. Ci rivediamo presto per parlare delle iniziative che coinvolgono la terra natale di Padre Pio che ci è tanto cara. Grazie, grazie ancora a tutti voi. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi ritorneremo ancora insieme. Grazie a tutti.